Ciao a tutti dalla Mette tra le pagine, mantenendoci nell'universo dei videogiochi non può non apparire la serie di Resident Evil, con i suoi personaggi iconici che risultano dal punto di vista psicologico veramente un capolavoro. Tra i numerosi personaggi della serie, viene uno che presenta una psicologia di un interesse immenso, e anche di una profondità immensa, ovvero Albert Wesker, il villain principale della serie. In questo viaggio che faremo insieme, analizzeremo in maniera semplice e accurata questo personaggio, evidenziando la sua vera identità. Pronti per un viaggio psicologico insieme nel mondo di Wesker? Bene, allora possiamo cominciare. Il primo punto da analizzare in Wesker è la sua ambizione e narcisismo. Albert Wesker dimostra un'ambizione smisurata e un'elevata fiducia in se stesso. Il suo narcisismo lo spinge a cercare il potere ed il controllo, desiderando sempre di emergere come superiore agli altri. Questo si manifesta attraverso la sua ricerca ossessiva di potere, la sua tendenza a manipolare gli altri per raggiungere i suoi obiettivi personali e il suo bisogno di essere costantemente al centro dell'attenzione. Wesker nutre un profondo senso di disgusto nei confronti della razza umana, considerandola inferiore e debole. Questo atteggiamento può derivare da una mancanza di empatia e da una visione distorta del suo stesso valore. Mostra una freddezza emotiva e un disprezzo verso gli altri, trattandoli come pedine da manipolare nel suo gioco di potere. La sua ossessione per la superiorità lo porta a cercare sempre nuovi modi per dimostrare la sua superiorità intellettuale, fisica ed emotiva. Ciò ci denota che sotto la sua arroganza e spavalderia il personaggio nasconda un fortissimo senso di inferiorità che tenta in tutti i modi di nascondere. Il personaggio di Wesker si distingue per la sua abilità nel manipolare gli altri e nel condurli secondo i suoi fini. Utilizza l'inganno come strumento per raggiungere i suoi obiettivi personali, dimostrando un'abilità notevole nel mascherare le sue vere intenzioni. Mostra una grande destrezza nel convincere gli altri ad agire secondo la sua volontà, utilizzando il suo carisma e la sua eloquenza per ottenere ciò che desidera. Wesker mostra una chiara mancanza di empatia e di capacità di comprendere le emozioni degli altri. Le sue azioni sono guidate dal suo egoismo e dalla sua ricerca di potere, senza prendere in considerazione il dolore o il danno che può causare agli altri. Questo emerge attraverso la sua freddezza emotiva, la sua mancanza di preoccupazione per il benessere altrui e la sua propensione a manipolare e sfruttare le persone senza alcun rimorso, ma anzi con un piacere velato. Possiamo ipotizzare che il personaggio stesso si sia sentito sfruttato e usato più volte nel corso della sua vita, prima di sfruttare in maniera così bieca, barra oscura, gli altri personaggi. Wesker presenta una natura dualistica, in cui è in grado di nascondere i suoi veri intenti dietro una facciata di lealtà e cooperazione. Questa contraddizione interna rende il suo personaggio ancora più complesso e ambiguo. Mostra una capacità di adattarsi alle situazioni e di agire in modo calcolato per raggiungere i suoi obiettivi, anche se ciò implica tradimenti o azioni controverse. Questa dualità è evidente nella sua capacità di spostarsi tra il ruolo di alleato fidato e quello di nemico spietato. Siccome gli occhi sono lo specchio dell'anima, al suo tenerli costantemente e perennemente coperti e oscurati dagli occhiali da sole, ci indica che Wesker faccia di tutto per nascondere le sue emozioni e i sentimenti, gestendo e tentando di gestire anche i suoi piccoli movimenti, assumendo anche spesso una posizione corporea molto rigida ed inflessibile, dietro gli abiti rigorosamente neri. Ciò, oltre a nascondere la sua fragilità, lo rende anche molto più impenetrabile agli altri personaggi. Wesker sembra soffrire di una mancanza di identità propria. La sua incessante ricerca di potere e controllo potrebbe essere una compensazione per una mancanza di autenticità e di senso di sé. Mostra una mancanza di coerenza nelle sue azioni e nelle sue convinzioni, adattandosi continuamente alle situazioni e personaggi che incontra. Questa mancanza di identità lo rende vulnerabile alla manipolazione e all'insicurezza, spingendolo a cercare costantemente con ferme esterne per la sua esistenza. Nonostante il suo atteggiamento di superiorità, Wesker sembra nascondere una profonda paura della morte e della propria inferiorità. La sua sete di potere potrebbe derivare da un desiderio di sconfiggere la debolezza e l'inevitabilità della morte. Questa paura si manifesta attraverso la sossessione per l'immortalità e la sua ricerca di perfezione, cercando di superare limiti umani e diventare invulnerabile alla morte. La paura della morte potrebbe essere il motivo trainante di tutte le azioni di Wesker. Possiamo ipotizzare che il personaggio abbia subito gravissime perdite durante l'infanzia, che lo abbiano portato ad odiare la fragilità della stessa vita umana. La sua continua paura della morte ci indica anche che Wesker è un personaggio senza uno scopo, senza una missione creativa, vitale, positiva e costruttiva nella sua vita. La mancanza di una missione vitale nella sua vita e la sua incapacità di vivere in maniera sana ed equilibrata, non solo con se stesso e le sue emozioni, ma anche con gli altri, consapevole del tempo che sta buttando nello sfuggire da se stesso, pongono il personaggio al concentrarsi unicamente sul materialismo e sulla percezione della sua inevitabile fine. Wesker cerca di esercitare un controllo totale su se stesso e sugli altri. Il suo perfezionismo lo porta a cercare costantemente il miglioramento e l'evoluzione a livello fisico, anche a costo di sacrificare la sua umanità. Questo si manifesta attraverso la sua ricerca di perfezione fisica e il suo desiderio di eliminare qualsiasi debolezza o imperfezione sia in se stesso che negli altri. In parole semplici, Wesker proietta il suo senso di inferiorità come umano utilizzando il meccanismo della generalizzazione a tutta la razza umana. Il suo controllo ossessivo si estende anche alla manipolazione delle situazioni e delle persone intorno a lui, cercando di dirigere ogni aspetto delle loro vite per soddisfare i suoi scopi. Sotto la superficie della sua calma apparente, Wesker nutre una profonda rabbia e un risentimento verso l'umanità. Questi sentimenti possono derivare da esperienze passate di tradimento o delusione che lo hanno spinto a distanziarsi emotivamente dagli altri. Questa rabbia si manifesta attraverso la sua freddezza emotiva, il suo sadismo e la sua determinazione nel causare sofferenza agli altri. Il suo risentimento si alimenta dalla percezione di essere stato ingiustamente trattato o sfruttato, spingendolo a cercare vendetta e a dimostrare la sua superiorità attraverso la manipolazione e il controllo. Pur di non guardarsi dentro e comprendere le proprie emozioni, Wesker è pronto barra disposto a diventare un essere seppur immortale, privo di qualsiasi qualità umana e sentimento, ma dedito solo ed unicamente alla crudeltà e alla sofferenza di se stesso e degli altri. Questo suo delirio di onnipotenza, di diventare un dio del nuovo mondo da lui creato, ci indicano ulteriormente la sua enorme fragilità e ci risottolineano la profonda e fragile psicologia di questo personaggio di nome Albert Wesker. Bene, siamo arrivati alla fine del video. Vi ringrazio per la vostra compagnia in questa analisi, in questo viaggio meraviglioso nella mente di uno dei cattivi più ben caratterizzati di sempre. Io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a condividere il video con altre persone che potrebbero essere interessate all'analisi psicologica dei personaggi immaginari che più amiamo. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un caro saluto dalla mente tra le pagine. Ciao e grazie ancora. Ciao.